Alla bandiera o a 27 di me? Dimmelo! Dimmelo per cosa prendi i nostri pezzi! Era forse uno scontro annunciato quello avvenuto nella giornata di ieri a Forlì, dove in piazzetta della misura sono entrati in contatto alcuni militanti di Forza Nuova con un gruppo di manifestanti composto tra studenti, sindacalisti e rappresentanti dell'Ampi. I fatti risalgono alle 17.30 di sabato, da una parte il banchetto del gruppo di estrema destra, dall'altra quello degli antifascisti che distribuivano il loro materiale. E non c'è voluto molto prima che dalle parole si passasse ai fatti con i militanti di Forza Nuova che hanno tirato fuori alcuni bastoni e fumogeni, uno dei quali è stato tirato dentro a una vicina bancarella. Alla fine degli scontri il bilancio parla di un agente ferito e del segretario della FIOM, Gianni Cotugno, colpito da una bastonata. Da parte nostra non c'è stata alcuna provocazione, afferma Cotugno, ci eravamo semplicemente messi di spalle al banchetto e all'improvviso ci sono arrivati addosso. Scontri che non hanno avuto risvolti più seri solo grazie all'intervento della polizia, che si trovava già sul posto e che non ha tardato a fare da scudo tra le due fazioni. Una volta accertati i reati commessi scatteranno le denunce, assicura il questore Loretta Bignardi. Stiamo già visionando le immagini relative all'accaduto per individuare i responsabili. Subito è arrivata la condanna del sindaco Davide Drei. Forlì non intende tollerare gesti fascisti che grondano di intolleranza e violenza. Il mio ringraziamento va alle forze dell'ordine che sono prontamente intervenute per evitare il peggio.